buongiorno e buon venerdì 24 maggio a tutti si chiude con il 24 maggio la tre giorni del milan 22 maggio 1963 la vittoria sul benfica prima vittoria in coppa dei campioni 23 maggio 2007 settima vittoria in coppa in champions league coppa dei campioni champions league vittoria sul liverpool 2 a 1 doppietta di pippo mio 24 maggio oggi ricorre il trentesimo anniversario il trentesimo anniversario della magica serata di barcellona quando 80.000 tifosi rossoneri nel per la serie cero anch'io oggi diciamo sì io cero hanno festeggiato la prima vittoria dell'era in coppa dei campioni dell'era berlusconi vent'anni dopo la seconda con rocco e rivera quella dell'89 è iniziata così la storia internazionale europea mondiale del milan di silvio berlusconi è una serata che vogliamo tutti ricordare con le reti magiche di gullit van basten gullit ancora van basten su passaggio di raikard la notte magica non solo però dei tre olandesi che hanno trascinato il milan lassuno e l'imperio platonico ma la sera anche degli italiani di giovanni galli tassotti maldini colombo costacurta baresi donadoni e carlo ancelotti e poi sono entrati anche filippo galli e pietro paolo verdis una serata che i tifosi del milan hanno ancora nel cuore arrivati a barcellona con navi treni aerei macchine una un esodo che ricordava l'esodo biblico di mosè a guidare il milan il presidente silvio berlusconi che ha ricordato anche recentemente quella notte magica finita nell'abbraccio dei tantissimi tifosi che hanno che lo hanno atteso sotto il balcone dell'albergo in quella notte magica di barcellona un ricordo splendido io poi tifosi del milan di oggi sì piace ricordare quelle grandi vittorie anche perché qualcuno dice non si vive di ricordi ma quando i ricordi l'importante è avere questo tipo di ricordo tifosi del milan dicevano preferiscono parlare del presente dei problemi del milan che deve affrontare la spal guardando poi sentendo poi i risultati dell'atalanta contro il sassuolo e dell'inter contro l'empoli la visita oggi anzi ieri la l'incontro ieri a neon del milan di gazzidis gazzidis che inizierà inizierà la sua nuova opera dal lunedì 27 maggio dal lunedì 27 maggio parte l'era di gazzidis che probabilmente partirà con un con l'addio di leonardo uno dei primi uomini scelti dai dal fondo eliot per guidare a livello di direttore tecnico questo milan oggi però nei prossimi video parleremo proprio del milan di oggi parleremo dell'incontro di neon per capire se questo milan rischia di non andare in europa quell'europa che ricordo vede oggi il milan festeggiare i 30 anni da un di una sera meravigliosa quindi milan tra il presente il passato ma soprattutto il futuro un futuro che partirà lunedì ma lasciatemi ancora oggi ricordare una data che nella testa nel cuore nella mente dei tifosi del milan rimane indimenticabili sono passati 30 anni sono passati 29 trofei da quegli anni dall 88 poi 89 vinti dal milan di silvio berlusconi è un ricordo meraviglioso ma adesso poi dobbiamo parlare anche del futuro perché queste immagini queste vittorie non rimangano solamente un ricordo ma vengano rinfrescate da nuove trionfi e da nuove vittorie se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo bellegare